Stamattina quando mi sono alzata molto presto perché ho difficoltà a dormire, mi sveglio presto, non riesco a ridormentarmi eccetera. Comunque avevo pensato di fare questi tre minuti grezzi di oggi parlando della giornata internazionale dei mancini perché sapete che ogni giornata del calendario è dedicata a qualcosa o qualcuno, la giornata di oggi è dedicata ai mancini visto che io di mancini ne ho uno a casa, pensavo di parlare anche di sfatare qualche mito quando sento dire ah i mancini sono più intelligenti, sono più bravi nello sport, non è che sono più intelligenti, più bravi a fare sport è che se tu giochi a tennis e sei mancino ti alleni sempre con destri e quindi sei abituato al gioco del destro se invece tu sei destro con i mancini ci giochi poco, non sei abituato al gioco del mancini e così via eccetera. Però poi ho cambiato idea, perché? Perché ho rimandato la compilazione dei tre minuti grezzi, la registrazione e sono giornate calde, un po' così pre-grandi, pre-ferragostiane, quindi vabbè poi mi sono messa a guardare una cosa su Netflix, una cosa giapponese un po' deprimente e quindi non mi va adesso di parlare dei mancini, non mi va di lamentarmi e quindi mi lamenterò e di cosa mi lamento? Mi lamento di quelli che predicano bene e razzolano male, nessuno in particolare però mi capita di buttare l'occhio su articoli, anche sui social di gente ah ecco si dovrebbe fare così, le aziende dovrebbero fare così, gli esseri umani dovrebbero fare così poi vai a vedere, vai a grattare le stesse persone che predicano comportatevi così, così invece non lo fanno perché se ne sconosce eh sì però non fa, eh sì però non si può vabbè forse qualcuno potrebbe anche accusare me di predicare, di predicare punto perché poi le cose che dico le faccio anche, anche perché cioè diciamo che il mio spazio di predicamento, di predicazione è molto limitato visto che abito in un'isola semi remota del sud dell'Europa e quindi non è che il mio raggio d'azione sia più influente di tanto però quello che dico io lo faccio anche e altrimenti non lo dico non mi frega niente perché sono arrivata a un momento della mia vita a un'età in cui non devo rendere conto a nessuno quindi se è una cosa la faccio boh buon per me non è frega niente a nessuno, sì anche dal tono della mia voce sentite che è un po' cantilenante, un po' strascicante, non ho molta voglia oggi chissà per quanto continuano ancora a fare i tre minuti crezzi